bene buonasera buonasera a tutti ritiro fuori i fogli perché se oppure apri il vento lasciarli fuori possiamo cominciare tu non vieni fai una specie di shop c'è un problema anche stasera ma che è sempre allora si sono rotte tutte e quattro le gomme del musicista di nuovo anche stasera ma se si era rotta la coppa dell'olio le ruote adesso tutte e quattro le ruote a terra vabbè faremo senza oggi scusate sempre questa cosa è un po' ridicola ma io ho già parlato con i Loris stavo parlando con i Loris adesso cosa dice l'elettricista sgancia il microfono allora questa cosa che sgancia il microfono che è successo qualche volta no? cioè che ogni tanto che sgancia appunto non sgancia non sanno cosa significa vuol dire che va via il segnale e la voce e questo è un problema è molto interessante questa cosa da spiegare sì dai facciamo una lezione è un problema legato alle frequenze alle frequenze cioè noi lo mettiamo su una frequenza poi però quando arriva il pubblico e arrivano 60 cellulari in sala può succedere che quella frequenza venga occupata e quindi noi adesso dobbiamo cambiare la frequenza giusto? vieni e continuare a cambiarla di cellulare in cellulare almeno 60 volte infatti bisognerebbe mettere modalità aereo ma io non mi permetto di chiederlo agli spettatori di fare questa cosa ma può succedere? è detto che tutti sappiano mettere la modalità aereo perché l'abbiamo provato prima cioè il problema non c'era prima che arrivassero gli spettatori non volevamo colpevolizzarvi no 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 ma adesso cambiamo la frequenza e va tutto bene vabbè e quindi con Loris cosa stavi dicendo? no stavo dicendo che è stato così bravo l'altra volta no? sì è stato bravo nonostante sia un elettricista sì ma porta la voce perché sei senza nonostante sia un elettricista senza offesa per gli elettricisti naturalmente un light designer tecnico del suono e quindi ma non avrà la chitarra neanche oggi sì ce l'ha invece ma non è che sei tu che sei andato a tagliare le gomme al musicista perché così suonavi così suonavi tu potrebbe no però non ci propini di nuovo le canzoni degli alpini la penna nera o queste cose qui no stavolta mi sono preparato ti sei preparato sì allora vieni via vieni accomodati un applauso di incoraggiamento ma scusate ma con questi canti dei barattieri che sono gli unici canti comici della Divina Commedia così ci viene voglia di fare un po' i buffoni anche noi per uscire da quella tragedia da quella cupezza infernale vabbè allora chi ci ha seguito chi ha partecipato all'incontro tu accordati intanto era già accordata era già accordata ecco la speranza era forte a chi ha partecipato all'incontro precedente scoprirà che cioè scoprirà saprà anzi che quello di oggi sarà proprio il secondo episodio di un unico lungo racconto che abbiamo iniziato martedì scorso al passo della mendola ma non si preoccupi chi invece inizia a seguirci stasera perché basteranno pochissime parole di ragguaglio per entrare facilmente nella nostra storia e potremmo quasi quasi visto che lui martedì scorso ci ha cantato una canzone molto bella di Battiato che si intitola Povera Patria così ricordiamo anche Battiato sul cappello no quella no ho detto di no sì ha anche cantato delle canzoni così quella a Pinotta anche no partiamo subito andiamo sul sicuro e potresti rifarla così entriamo ci colleghiamo alla serata di martedì povera patria schiacciata dagli abusi del potere di gente infame che non sa cos'è il pudore si credono potenti e gli va bene quello che fanno è tutto gli appartiene tra i governanti quanti perfetti inutili buffoni questo paese è devastato dal dolore ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore non cambierà non cambierà forse cambierà forse cambierà ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali nel fango affonda lo stivale dei maiali me ne vergogno e un poco mi fa male vedere un uomo come un animale non cambierà cambierà non cambierà non cambierà si che cambierà vedrai che cambierà si può sperare che il mondo torni a quote più normali che possa contemplare il cielo e i fiori che non si parli più di dittature se avremo ancora un po' da vivere la primavera intanto tarda da arrivare grazie una canzone molto bella un po' malinconica un po' triste ecco ma è l'unica che sa sì purtroppo sono anche sul cappello ebbè quella non è adatta scusate se non è adatta non è adatta no? eh insomma risintonizziamoci sulle puntate precedenti anche oggi come martedì la parola chiave è baratteria che noi semplificando molto possiamo tradurre con corruzione barattieri nel medioevo erano i pubblici funzionari corrotti politici amministratori giudici avvocati che facevano commercio della cosa pubblica per interesse privato noi la volta scorsa vi abbiamo raccontato una storia una storia abbastanza terribile la storia di una tangentopoli vera e propria che scosse la Firenze del 1299 nella quale Dante rivestiva ancora un ruolo di spicco come uomo politico una vicenda giudiziaria che fece emergere una rete di corruzione estesissima nella quale sembrava dovessero essere coinvolti quasi tutti i cittadini che in un modo o nell'altro avevano rapporti con la cosa pubblica abbiamo anche notato come la situazione fu poi strumentalizzata nell'ambito della feroce lotta politica tra le due fazioni che c'erano allora tra i guelfi bianchi e i guelfi neri con condanne per baratteria per lo più emesse ai danni di esponenti del partito che di volta in volta era perdente e a soluzioni poco comprensibili per chi era legato invece al partito di governo anche Dante che era esponente dei guelfi bianchi fece le spese di questa ondata di processi e dopo la definitiva presa del potere dei neri all'inizio del 1302 fu condannato proprio per baratteria ed esiliato lasciò Firenze il 10 marzo del 1302 e non vi tornò mai più o ai barattieri che nell'inferno scontano la loro pena nella quinta bolgia Dante dedica due interi canti il 21 e il 22 martedì abbiamo fatto il 21 oggi facciamo il 22 e porta avanti Dante un racconto unitario molto particolare un unicum nella Divina Commedia che prosegue dal canto 21 al canto 22 senza soluzione di continuità sono attaccati sì perché ci sono altri casi in cui ci sono due canti dedicati allo stesso peccato per esempio anche i consiglieri di Frode che faremo la settimana prossima 26-27 ma sono personaggi diversi qui si tratta proprio di un unico racconto l'azione che continua è come un racconto unico è come vedere quei telefilm di una volta che finivano con un'azione e ricominciavano proprio con quell'azione è come se fosse un unico grande canto anzi a essere proprio sinceri una coda dell'azione raccontata in questi due canti occupa anche la prima parte del canto 23 trentesimo sì c'è però una cosa una cosa che dovrebbe stupirci molto e che durante il nostro ultimo incontro non abbiamo notato quindi questa è una cosa nuova anche per chi c'era la volta scorsa cioè Dante nell'inferno parla spessissimo naturalmente di Firenze e non risparmia alla sua città ingrata e ai suoi concittadini feroci invettive ne ascolteremo ne ascolteremo una anche martedì prossimo nel canto di Ulisse eppure proprio quando parla di baratteria proprio quando avrebbe potuto attingere molto materiale dalla storia contemporanea della sua città e dalla sua storia personale Dante non degna Firenze di una parola la ignora cioè nei canti 21 e 22 Firenze non è nominata in nessuna maniera ed è una cosa che si fa un po' fatica a capire forse però a ben guardare un indizio questa è una chicca devo dire cioè perché un indizio che in qualche modo ricolleghi la quinta bolgia la bolgia dei barattieri con Firenze c'è se noi osserviamo attentamente questo grande affresco dipinto da Dante nei canti 21 e 22 analizzandone però bene anche i bordi cioè i bordi dell'affresco dell'affresco quindi fuori di metafora ricercando anche nei versi dei canti vicini si può trovare una spia che rimanda in maniera subliminale a Firenze una spia nascosta quasi introvabile nel gusto dell'arte medievale che era un'arte elaboratissima piena di particolari minuscoli di difficile interpretazione che impreziosiscono l'opera ma che possono rimanere anche non compresi e non scoperti magari per secoli la parola che deve attirare la nostra attenzione è quella che chiude il canto ventesimo cioè il canto che precede i canti dedicati ai barattieri l'ultima parola l'ultima parola proprio l'ultima del canto venti è introque introque significa frattanto è un semplice avverbio di tempo perché questa parola è così interessante perché questa parola Dante la ricorda nel De vulgari eloquenzia quel trattato che Dante scrisse in latino per definire la lingua volgare da usare però nelle opere letterarie quindi un volgare sì una lingua volgare sì ma che andava diciamo epurata da certe espressioni vernacolari e in un passo del De vulgari eloquenzia Dante prende in giro in maniera abbastanza forte i suoi concittadini fiorentini perché troppo boriosi se la tirano perché sono fiorentini anzi Dante in maniera più tagliente dice rimbambiti per la loro follia e in un altro passo sempre lì rincara la dose dicendo in preda ad un delirio da ubriachi i fiorentini si credono di essere i detentori del volgare illustre e quindi Dante per sgonfiarli un po' dalla loro prosopopea cito testualmente dal De vulgari eloquenzia tradotto Dante si diverte a citare alcune espressioni vernacolari che i fiorentini usano e dalle quali deve essere ripurito il volgare illustre e Dante scrive così i fiorentini dicono manichiamo introque che noi facciamo altro cioè noi mangiamo nel mentre che facciamo altre cose un modo di dire fiorentino un modo di dire fiorentino quindi la parola introque nel De vulgari eloquenzia è proprio portata da Dante come esempio di parola popolare locale cioè di fiorentino vernacolare di un linguaggio dialettale plebeo da pazzi e ubriachi come dice lui che non va usato dice nelle opere letterarie e lui puntualmente la usa nella commedia e proprio in chiusura del canto 20 che si conclude in troque l'ultima parola prima di iniziare così di ponte in ponte il canto 21 l'ultima parola in troque ecco sembra proprio una chiave una chiave che Dante mette questa parola Dante sembra fornirci un indizio come se ci dicesse attenzione io non parlerò di Firenze ma qui siamo nel peggiore sterco fiorentino cioè così la parola in troque non solo rimanda a Firenze ma anticipa essendo una parola appunto plebea vernacolare anticipa in chiusura del canto 20 lo stile che sarà dei canti 21 e 22 uno stile da commedia da farsa buffonesca grottesca l'unico stile che secondo Dante si addice al mondo meschino di quella tangentopoli antelitteram che abbiamo raccontato la volta scorsa comunque a quella corruzione ecco il registro stilistico che Dante usa ce la dice lunga su quale sia il suo coinvolgimento emotivo nel trattare l'argomento poetico ormai dovremmo averlo capito per esperienza avendo già letto molti canti che quando Dante usa uno stile alto tragico esprime così una sua forte partecipazione emotiva alla sofferenza delle anime dannate e forse anche esprime il timore che prova di potersi macchiare lui stesso di quel peccato cioè sono peccati che lui sente di poter commettere lo stile comico invece esprime sempre distacco in parte l'ha usato anche per i simoniaci abbiamo visto se Dante fa dei due canti dedicati ai barattieri una farsa buffonesca significa che si sente del tutto estraneo alla baratteria non lo mette in crisi il fatto di parlare di baratteria parla dei barattieri in maniera ostile sprezzante sarcastica anche violenta è come se volesse rendere ben visibile la sua totale estraneità rispetto a quel reato di baratteria per cui è stato secondo lui ingiustamente condannato bene detta questa cosetta per chi non era con noi la volta scorsa anticipo vedrete che i canti dei barattieri sono davvero dei canti d'azione canti comici e pieni di personaggi noi solitanto siamo abituati a vedere il grande personaggio il grande dannato che fa il monologo qui invece ci sono tanti personaggi personaggi meschini furbi imbroglioni fregoni ci sono ben 15 personaggi tra dannati e diavoli guardiani che agiscono con nomi e che parlano che agiscono sulla scena che agiscono su questo teatro che lui crea su questo palcoscenico all'interno di un'azione piena di svolte di sorprese di incidenti ed è un gusto molto teatrale di un teatro naturalmente medievale popolare che non è privo di note plebe anche di vocaboli e immagini che arrivano ad essere scurrili ed è per questo e noi per poter rappresentare tutti questi personaggi questa varietà di voci di suoni abbiamo coinvolto ben otto anche stasera dei nostri malebranche che si chiamano così proprio come i diavoli della quinta bolgia sono i nostri allievi del seminario di lettura espressiva alcuni di loro gente che non aveva mai recitato prima e mai reciterà più dopo questa esperienza traumatica sì sì li abbiamo buttati sul palco dopo sette otto ore di prove più o meno non di più sì non di più li presento adesso sono proprio degli spettatori come voi che hanno preso coraggio e maglie ne incolse e si sono alzati adesso si sono iscritti al nostro seminario e hanno fatto appunto queste ore di lettura dantesca ed eccoli qua a mettersi alla prova e a cercare di riproporvi appunto i suoni i ritmi dei diavoli dei barattieri di Dante di Virgilio iniziamo proprio da Virgilia la nostra Margherita che io personalmente ho scelto come Virgilio in quanto secondo me Virgilio è un po' la fatta madrina di Dante e l'ho fatta vestire così apposta e poi lei è la maestra di asilo di Jacopo diciamo tutto e quindi siccome è il maestro di Dante mi sembrava proprio una cosa adattissima la maestra Margherita poi abbiamo Anna Manuel Nicola Clarissa Francesca Maria Grazia insomma grazie grazie di esservi messere alla prova di aver lavorato duramente e io direi che possiamo cominciare a calarci di nuovo in mezzo alla pece bollente però prima Loris farà vedere che finalmente oggi ha studiato sì immagino di sì che non ci faccia quegli scherzi per aver tagliato le ruote del musicista avrà studiato del tutto nella pece sì andiamo introducici con un'altra canzone un po' più allegra un po' più allegra Pierangelo Bertoli bello bello Pierangelo Bertoli Italia d'oro Italia d'oro d'oro prego racconteranno che adesso è più facile che la giustizia si rafforzerà che la ragione è servire il più forte e un calcio in culo all'umanità ditemi ora se tutto è mutevole se il criminale fu chi assassino poi l'interesse è così prepotente che conta solo chi più sterminò romba il potere che detta le regole cade la voce della libertà mentre sui conti dei lupi economici non resta il sangue di chi pagherà Italia d'oro frutto del lavoro cinta dell'alloro trovati una scusa se puoi Italia nera sotto la bandiera vecchia vivandiera te ne spatti di noi mangia di quel che vuoi fin quando lo potrai tanto non paghi mai tutto si perde in un suono di missili mentre altri spari risuonano già sopra le strade viaggiate dai deboli la nostra guerra non si spegnerà e torneranno a parlarci di lacrime dei risultati della povertà delle tangenti e dei boss tutti liberi di un'altra bomba scoppiata in città spero soltanto di stare tra gli uomini che l'ignoranza non la spunterà che smetteremo di essere complici che cambieremo chi deciderà Italia d'oro frutto del lavoro cinta dell'alloro trovati una scusa se puoi Italia nera sotto la bandiera vecchia vivandiera te ne spatti di noi mangia di quel che vuoi fin quando lo potrai tanto non paghi mai fratelli d'Italia d'Italia sedesta dell'elmo di Scipio se cinta la testa ha studiato ha studiato ha studiato ha studiato questa era proprio giusta questa era giusta secondo me c'è rimasto poco da mangiare comunque abbiamo quasi finito le risorse vabbè detto questo torniamo al nostro racconto caliamoci nell'inferno come ormai abbiamo spiegato più di una volta l'ottavo cerchio dell'inferno che è il penultimo siamo molto giù è il cerchio delle malebolge ed è diviso in dieci fossati concentrici che visti dall'alto sembrano un bersaglio questi fossati sono attraversati da vari ponti che permettono di passare da un argine all'altro e così passando di ponte in ponte Dante e Virgilio arrivano nella quinta bolgia che è quella dei barattieri il paesaggio è come quello di tutte le malebolge roccioso frastagliato pieno di grotte scheggi scheggioni scogli sono tutti termini che abbiamo sentito nella puntata precedente che sentiremo anche stasera i ponti stessi sono degli archi di roccia molto movimentati non sono archi costruiti dall'uomo sono archi naturali ricchi di anfratti di sporgenze ma la caratteristica principale che contraddistingue la quinta bolgia è che è mirabilmente oscura la quinta bolgia è più oscura di tutto il resto dell'inferno che già è molto oscuro è già buio perché il suo fondo è pieno di una melma nera che ribolle bollente e ne invischia anche le pareti rocciose quindi tinge tutto ed è pece i barattieri sono condannati a stare immersi in questa pece bollente e non possono venire in superficie per trovare un po' di refrigerio devono rimanere sempre sotto così come in vita quando amministravano il potere erano abituati a brulicare in un mondo torbido e sotterraneo a prendere le bustarelle sotto il banco adesso per punizione giustamente devono stare immersi nella pece una pece che è nera come la loro anima una pece che invischia tutto e tutti esattamente come la corruzione dilagante finisce per invischiare tutti gli organi di uno stato a controllare che i barattieri rimangano effettivamente sotto la pece bollente ci sono i guardiani della quinta bolgia che sono dei diavoloni alati agili e veloci per cui Dante appunto come dicevamo ha coniato il nome di malebranche cioè grinfie malvagie effettivamente le loro unghie sono dei veri e propri artigli e per giunta come se non bastasse hanno due lunghe zanne come quelle dei cinghiali anzi così non così ma così e sono muniti di uncini di ferro come armi che sono chiamati raffi o runcigli e sono nomi sono termini che sentiremo nel corso del canto Dante e Virgilio durante la loro visita a questa quinta bolgia vengono aggrediti dai malebranche ma Virgilio riesce a ottenere di poter parlare con il loro capo che si chiama Malacoda i diavoli hanno dei nomi straordinari bellissimi e Virgilio fa notare a Malacoda che il viaggio suo e di Dante è voluto da Dio stesso cioè nel cielo è voluto e a questo punto Malacoda fatto il nome del principale del boss sembra incassare il colpo e arrendersi alla volontà divina e si pare insomma pare dimostrarsi collaborativo con i due viaggiatori in particolare li mette in guardia dal proseguire il loro viaggio attraverso il ponte che proprio stavano percorrendo perché nel tratto sovrastante la bolgia successiva quindi dalla quinta alla sesta bolgia quel ponte è crollato pensate è crollato durante il terremoto che scosse la terra al momento della morte di Cristo Malacoda però suggerisce anche una soluzione a Dante e Virgilio gli consiglia di proseguire il loro cammino percorrendo verso sinistra l'argine della bolgia finché non troveranno un altro ponte rimasto in piedi che permetterà loro di attraversare agevolmente alla sesta bolgia verso sinistra perché all'inferno si va sempre a sinistra la mano del diavolo è ovvio non solo Malacoda nomina anche una scorta di dieci malebranche che accompagneranno che scorteranno Dante e Virgilio e nel mentre faranno anche il loro lavoro cioè faranno la ronda consueta a caccia di quei barattieri che cercano di emergere dalla pece e loro li ricacciano giù o Dante non si fida assolutamente di Malacoda e in realtà il suo istinto non sbaglia Malacoda infatti ha mentito perché tutti i ponti infatti che sovrastano la sesta bolgia sono crollati con quel benedetto terremoto e quindi ordinare ai malebranche di tenere in salvo Dante e Virgilio fino a quel ponte che non esiste equivale a suggerire loro di catturarli appena possibile noterete che i malebranche nella loro furbizia fraudolenta oltre che nella loro volgarità e nella loro meschinità sono proprio lo specchio dei barattieri di cui sono guardiani purtroppo Virgilio ahimè essendo fatta madrina non vede il male non vede il marcio è buonista è buonista Virgilio è buonista abbiamo scoperto con questo canto non si rende conto dell'inganno dei diavoli e accetta di proseguire il cammino scortato da questi dieci diavoli nominati da Malacoda bellissimo il momento bisogna ridirli i nomi perché chi non c'era non li conosce e sono dei nomi fenomenali c'è tutta la fantasia di Dante c'è tutta la forza del medioevo in questi nomi che sono quasi parlanti Alicchino Calcabrina Calcabrina Cagnazzo Libicocco Draghignazzo Ciriatto Sannuto Graffiacane Farfarello Rubicante e alla loro guida pone Barbariccia così questa scalcagnata compagnia messa insieme composta da questi dieci diavoli in più da Dante e Virgilio intraprende il suo cammino però parte cioè questo piccolo drappello parte a un segnale abbastanza particolare divenuto abbastanza celebre tra l'altro cioè una scoreggia di Barbariccia è un verso famoso il verso che chiude il canto ventunesimo edelli avea del cul fatto trombetta e qui finisce la abbiamo finito siamo arrivati all'assunto della puntata precedente adesso dobbiamo raccontare il canto ventidue allora senza soluzione di continuità edelli aveva del cul fatto trombetta io vi di già cavalier inizia così il canto ventidue cioè Dante commenta all'inizio del canto ventidue quello strano segnale con cui quella decina di diavoli hanno iniziato il loro viaggio lo commenta e dice che durante la sua vita Dante è anche combattuto è stato anche un soldato ecco gli era capitato di vedere cavalieri fanti navi muoversi al suono degli strumenti più strani oppure alla vista dei segnali più disparati ma mai al suono di una sì diversa cennamella cioè mai al suono di un nozzufolo così strano ma prosegue subito dicendo noi andavamo con i dieci demoni e si sa nella chiesa con i santi e in taverna con i ghiottoni questa è la chiosa e così incomincia il viaggio di Dante Virgilio Barbariccia e gli altri nove malebranch durante il cammino lungo l'argine della quinta bolgia che percorrono andando verso sinistra naturalmente Dante che è lì per conoscere per guardare e capire Dante tiene sempre il suo sguardo rivolto alla pegola perché Dante vuole vedere qualche dannato dice Dante il mio sguardo era sempre rivolto alla pegola e alla gente che entro v'era incesa cioè alla gente che vi era bruciata dentro accesa e con due similitudini bellissime ed elaborate e anche lunghe Dante ci informa di come si muovono questi dannati nella pece ci dice che a volte gli capita di vedere qualche barattiere affiorare solo con il dorso con la schiena dice come fanno i delfini quando si avvicinano alle navi e aggiunge perché questa era una leggenda quando i delfini si avvicinano alle navi per avvisare i marinai di una tempesta incipiente e quindi per spronarli a campare loro legno cioè a salvare a mettere in salvo la loro nave si credeva che quando i delfini si avvicinavano per saltare vicino alle navi era annuncio di tempesta altre volte invece dice altri barattieri capitava di vederli nella pece vicino agli argini della bolgia e si vedevano solo alcune teste immobili come quando dice si vedono i ranocchi sostare ai bordi di uno stagno col muso fuori si che celano i piedi e l'altro grosso cioè con il grosso del corpo sott'acqua i ranocchi che appena sentono un pericolo si rimmergono nell'acqua così come fanno quei barattieri dice quando sentono avvicinarsi barbariccia che si immergono per paura di essere infilzati si rimmergono svelti nella pece e come si appressava barbariccia questi sono dei ritmi bellissimi e come si appressava barbariccia così si ritraen sotto i bollori purtroppo però uno di questi dannati un po' tordo non si accorge che alle sue spalle stanno arrivando i malebranche cioè c'è uno di stiranocchi che non sente arrivare il pericolo non sente arrivare barbariccia e rimane immobile così con la testa fuori finché non viene arpionato con un ronciglio da uno di questi malebranche precisamente da graffia cane che lo tira su per i capelli che fai quei capelli un po' come con gli spaghetti capito lo tira su così lo tira su grondante di pece dice Dante mi sembrava simile ad una lontra quando viene tirata su dall'acqua naturalmente gli altri malebranche quando vedono tirare su questo barattiere così si fanno intorno e iniziano a esortarsi a vicenda scuoiamolo vivo forza rubicante scuoialo con i tuoi unghioni e così sentiamo queste battute nonostante il raccapriccio che Dante prova per la bestialità di questa scena Dante però trova il coraggio per pregare Virgilio di chiedere a quello sciagurato barattiere dice venuto a man degli avversari suoi cioè caduto nelle grinfie dei propri nemici dei malebranche se può presentarsi a loro Dante dice un'occasione troppo bella ce n'è uno tirato su così intervistiamolo conosciamolo e così fanno la domanda al barattiere e il barattiere si presenta ora si presenta con pochi versi io vi invito a a stupirvi se si può dire di questa meraviglia di questi versi con cui si presenta questo barattiere perché con quattro cinque versi crea un personaggio che ha una storia conosciamo i genitori conosciamo l'infanzia la carriera conosciamo tutto conosciamo le sue frustrazioni sembra un personaggio di Shakespeare così in quattro versi in quattro versi non in quattro atti no è una cosa veramente straordinaria creano questo personaggio con una psicologia elaborata non semplice allora questo barattiere è nativo del regno di Navarra dice sua madre lo generò dice lui stesso con un ribaldo distruggitor di sé e di sue cose attenzione che ribaldo ha la stessa stessa radice di barattiere un ribaldo distruggitor di sé e di sue cose cioè un furfante scialacquatore e suicida cioè ce l'ha con la madre che l'ha messo al mondo con questo padre scialacquatore e suicida poi dice la mia cara madre pensò bene di pormi al servizio di un signore in qualità di servo mia madre a servo di un signor mi puose si percepisce il disprezzo per chi l'ha generato e poi condannato ad una vita servile ma lui con una forza che trae probabilmente da questa da quest'origine appunto come i bastardi shakespeariani i figli bastardi che poi fanno una carriera tremenda per questa frustrazione lui pensò riuscì a capovolgere il suo destino prende in mano la sua sorte la sua vita e diventa famiglia del buon retebaldo cioè diventa famiglio entra nella nella corte del retebaldo e non si sa come ma probabilmente grazie alla sua furbizia e in maniera anche poco pulita riesce a fare una scalata sociale incredibile e in breve tempo da servo riesce a diventare cortigiano del re di Navarra tebaldo e divenuto cortigiano del re di Navarra dice qui vi mi misi a far baratteria cioè approfittando della posizione privilegiata e della fiducia del sovrano incominciò di buon grado a farsi corrompere per denaro e dice ora ne rendo ragione cioè ne pago le conseguenze in questo caldo i commentatori antichi lui non dice il proprio nome però i commentatori antichi quelli che hanno commentato la commedia poco dopo che Dante la scrisse ci dicono il nome di questo barattiere ce lo tramandano come un certo Ciampolo Ciampolo di Navarra Ciampolo potrebbe essere un adattamento di Jean Paul prendiamo per buono questo nome d'ora in poi chiamiamolo Ciampolo anche noi Ciampolo mentre parla così arroncigliato con Dante e Virgilio subisce ogni tanto degli attacchi da quei malebranche che non riescono a trattenersi per esempio ad un certo punto subisce un attacco da ciriatto che gli fa sentire come le sue zanne sanno sdrucire cioè sanno lacerare Dante dice il povero sorco cioè il povero sorcio è finito nelle grinfie di malegate ma Barbariccia però come Barbariccia è uomo d'onore ha garantito Virgilio che lui non deve essere toccato perché deve poter rispondere alla domanda di Dante e Virgilio Barbariccia allontana i suoi da Ciampolo lo inforca lo inforca non che lo inforca con ronciglio nel senso che lo abbraccia così con le braccia per difenderlo dagli altri e in modo da permettergli appunto di soddisfare le curiosità dei due visitatori e così Virgilio chiede a Ciampolo se conosce altri rii cioè altri poco di buono altri dannati altri barattieri italiani conosci tu qualcun altro latino gli chiede conosci tu alcun che sia latino sotto la pece e Ciampolo parla e qui notiamo il modo con cui parla parla lento si dilunga un po' racconta un po' di cose perché cerca di approfittare della situazione cioè parla lentamente perché è comunque una situazione privilegiata anche se è così arruncigliato però intanto è fuori dalla pece ed è anche difeso c'ha la scorta di Barbariccia che gli impedisce di essere arpionato dai malebranchi quindi un po' ne approfitta e racconta dice proprio poco fa mi sono allontanato da un altro barattiere sardo e dice fossi ancora lì con lui è un filibustiere naturalmente Ciampolo fossi ancora lì con lui che non dovrei temere le unghie e gli uncini di queste malebranche e i malebranche sentendo lui che dice questo non riescono a trattenersi altro attacco l'ibicocco gli strappa un lacerto cioè un brandello di muscolo dal braccio draghignazzo gli ferisce le gambe giuso alle gambe però il loro decurio onde il decurio loro si volse intorno intorno con malpiglio dice Dante cioè Barbariccia il capo dei dieci placa questa seconda zuffa e permette di nuovo a Ciampolo di parlare e Ciampolo mentre si lecca le ferite ricomincia con l'interrogatorio cioè ascolta l'interrogatorio di Virgilio che chiede a Ciampolo chi sia quel barattiere sardo che ha nominato Virgilio vuole conoscere l'identità di quell'altro barattiere e lui lo presenta si tratta di un certo frate gomita di Gallura e dice Ciampolo vasel d'ogni e froda cioè vaso di ogni frode ricettacolo di ogni frode ebbe ci racconta ebbe i nemici di suo donno in mano cioè i nemici del suo donno del suo signore in custodia cioè aveva catturato dei nemici e gliel'aveva dati a lui perché li custodisse e lui invece dice fessi lor fessi lor cioè si comportò così con loro che ciascun se ne loda cioè agì in modo tale che loro ancora ne sono contenti cosa fece danar si tolse attenzione che il verso prima finisce con da e il verso successivo inizia con da cioè che ciascun se ne loda danar da da fa il suono del denaro capito ciascun se ne loda danar si tolse e lasciò lì di piano cioè si prese la mazzetta e li liberò di piano è un termine giuridico de planu formula giuridica che indica una soluzione sommaria cioè libera tutti i nemici del suo signore ma prosegue Ciampolo anche negli altri incarichi che questo frate gomita di Gallura di vestì fu barattiere sommo cioè non picciol ma sovrano qui nella volgia questo barattiere se ne sta sempre dice Ciampolo con un altro barattiere sardo cioè una sorta di solidarietà fra sardi si cercano un certo Michel Zanche di logo d'oro e aggiunge Ciampolo a dir di Sardegna le lingue non si sentono stanche cioè le loro lingue non sono mai stanche di parlare della loro Sardegna ma Ciampolo a questo punto vede che Farfarello sta strabuzzando gli occhi per fedire cioè con l'intenzione di ferirlo e quindi dice io continuerei volentieri a parlare ma ho paura di essere aggredito e quindi viene difeso per la terza volta da Barbariccia che allontana il malvagio uccello cioè Farfarello e così il furbo Ciampolo a questo punto pensa di poter mettere in atto un piano per potersi liberare dalla presa dei malebranche e rigettarsi nella pece perché ha capito che l'interrogatorio sta finendo e che a quel punto è meglio stare nella pece piuttosto che in mano di tutti quei malebranche e quindi questo inizia a elaborare un piano per sfuggire alle grinfie dei malebranche cioè sentite è elaboratissimo straordinario dice a Dante e Virgilio che se vorranno lui ha la possibilità di far venire a parlare con loro molti altri barattieri addirittura dice per allettare Dante e Virgilio dice potrò chiamare al vostro cospetto tanti barattieri toschi e lombardi quindi conterranei di Dante e di Virgilio Virgilio Mantovano quindi evidentemente ha riconosciuto l'origine di Dante e Virgilio dalla loro parlata questo avviene spesso nell'inferno cioè che Virgilio ha una parlata settentrionale Dante e Toscana quindi lui li ha letta vi faccio venire dei barattieri toschi o lombardi però lo posso fare molto semplicemente lo faccio da qui rimanendo seduto qui dove sono sull'argine della Bolgia perché io posso richiamarli con un certo fischio che è un fischio che fra di noi barattieri della Quinta Bolgia usiamo per comunicarci quando è possibile emergere un po' dalla peccia senza il pericolo che ci siano malebranche nei dintorni hanno questo loro suono quando io sufolerò com'è nostro uso di fare allora che fuori alcun si mette i malebranche però dice Ciampolo però i malebranche mentre io faccio questo fischio devono allontanarsi e nascondersi dietro una roccia perché sennò quei barattieri non verranno qui non si faranno vedere naturalmente i malebranche sembrano non cascarci cioè non si fidano capiscono che Ciampolo vuole rimanere lì da solo per rituffarsi nella pece bollente e uno di loro in particolare che è Cagnazzo esclama oh di malizia che li ha pensata per gittarsi giuso cioè senti che furbizia è scogitato per rituffarsi nel fosso e Ciampolo risponde sì dice fai il sadico sì malizioso sono io troppo cioè io sono molto malizioso perché in questo modo godo nel procurare ai miei compagni di pena maggior tristizia esponendoli alle vostre grinfie e a questo punto d'improvviso uno dei malebranche Alichino di rintoppo agli altri cioè in opposizione agli altri che sono diffidenti e che non vorrebbero stare al gioco di Ciampolo accetta la proposta cioè prende si assume la responsabilità da solo dice ok ci stiamo ci stiamo però minaccia Ciampolo dice stai attento perché se tu quando noi ci saremo allontanati ti tufferai nel fosso io non ti verrò dietro di gualoppo cioè camminando al galoppo correndo ma verrò volando sopra la pece e ti prenderò stai tranquillo che ti prenderò poi si rivolge agli altri malebranche e gli dice lasciamo pure la sommità dell'argine e nascondiamoci dietro di esso lasciasi il collo e fia la ripascudo e poi di nuovo dice a Ciampolo e vedremo se tu solo saprai essere più in gamba di tutti noi a questo punto Dante fa capolino si rivolge direttamente a noi che adesso lo stiamo leggendo e dice o tu che leggi udirai nuovo ludo cioè tu che adesso mi stai leggendo stai attento perché preparati ad un gioco incredibile bellissimo allora tutti i diavoli cosa succede tutti i diavoli si voltano per nascondersi dietro la sommità dell'argine stando all'ordine di Alichino anzi dice Dante il primo a voltarsi è quello che a ciò a fare era più crudo cioè quello che era più restio ad assecondare Ciampolo cioè cagnazzo e non appena i diavoli si voltano come era chiaro come era chiaro l'ona varrese ben suo tempo colse fermò le piante a terra ed in un punto saltò e dal proposto loro si sciolse ecco Ciampolo punta i piedi per terra e si tuffa nel fosso come una rana che salta nello stagno il barattiere quindi è più furbo dei malebranche i quali vedendosi beffati si sentono in colpa per essere caduti in trappola si sentono in colpa di colpa con punti naturalmente più di tutti di colpa fu con punto Alichino cioè quello che aveva deciso di accettare la proposta di Ciampolo il quale quindi si lancia come promesso dietro a Ciampolo volando gridando tu sei giunto cioè io ti ho preso ti ho raggiunto ma il barattiere gli sfugge perché si infila sotto la pece Dante dice perché l'ali al sospetto non poterò avanzar verso un po' difficile cioè le ali non poterono avere la meglio sul sospetto cioè sulla paura cioè in altre parole la paura la paura procura a Ciampolo una velocità maggiore di quella che garantiscono le ali ad Alichino cioè la paura è più forte delle ali a garantire la velocità Alichino il quale dopo essersi calato impicchiata fino a sfiorare la pece è costretto ad impennarsi ad alzare il petto e raddrizzare il volo verso l'alto per non finire a sua volta dentro la pece bollente dice Dante come fa il falco dopo aver tentato di ghermire l'anatra la quale però riesce a tuffarsi sott'acqua prima di essere ghermita e il falco riprende il volo e si tira su e il canto a questo punto siamo arrivati alla fine si chiude con una zuffa fra i diavoli perché Cal Cabrina uno degli altri che si era lanciato in volo dietro ad Alichino dice questa è un'altra cosa psicologica sperando che quei campasse per aver la zuffa cioè Cal Cabrina spera che Ciampolo abbia la meglio su Alichino per poter litigare con Alichino cerca un motivo per fare botte capito e quindi non appena Ciampolo si immerge nella pece Cal Cabrina dà addosso ad Alichino aggredisce il compagno Alichino risponde iniziano a litigare in volo però presi dalla lotta cadono entrambi nella pece bollente che invischia le loro ali e impedisce loro di riprendere il volo dice lo caldo schermitor subito fue cioè il caldo li schermisce cioè li separa immediatamente cioè si sentono scottare e quindi liberano smettono di litigare ma però di levarsi era neente cioè però era impossibile venirne fuori e quindi si conclude così il canto deve intervenire barbariccia che manda sul ciglio del fossato gli altri diavoli che allungano gli uncini verso i compagni dice ormai cotti dentro dalla crosta è una tempura una tempura sì esatto di gambero e quindi hanno questa pelle abbrustolita come quella o di un uccello fritto arrosto capito gli uccelli fritti non li ho mai visti gli uccelli arrosto allora croccanti comunque croccanti e li tirano su e Dante e Virgilio che anche Virgilio a questo punto si è reso conto che quella scorta era un po' poco di buono e quindi ne approfittano per scappare per proseguire da soli e lasciano i malebranche in quell'impaccio questo è l'ultimo verso noi lasciamo loro così impacciati ecco e quindi direi che adesso siamo pronti per ascoltarlo questo canto farcelo leggere recitare dei nostri malebranche però prima se ce n'hai un'altra ci canti un'altra canzone ma non ti sei scordata la chitarra con quest'umidità no bravo cosa ci fai sentire cosa ci fai sentire un pezzo di De Gregori la storia ah ma cose serie stasera hai cambiato radicalmente esclusiva e anche un po' di un messaggio positivo ecco sì bene la storia siamo noi nessuno si sente offeso siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo la storia siamo noi attenzione nessuno si sente escluso la storia siamo noi siamo noi queste onde del mare siamo noi siamo noi questo rumore che rompe il silenzio questo silenzio così duro da raccontare e poi ti dicono tutti sono uguali e ti rubano nella stessa maniera ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera però la storia non si ferma davvero davanti a un portone la storia entra dentro le stanze le brucia la storia da torto da ragione la storia siamo noi che scriviamo le lettere siamo noi che abbiamo tutto da vincere tutto da perdere la storia E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere e di andare te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo che cosa fare quelli che hanno letto milioni di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare ed è per questo che la storia dà i brividi perché nessuno la può cambiare la storia siamo noi, siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo la storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano la storia siamo noi siamo noi questo piatto di grano grazie grazie e adesso torna l'elettricista grazie, hai fatto bene a tagliare quelle gomme hai fatto bene bene predisponiamoci anzi predisponetevi Io sgombro tutto. Ah sì? Sì, togliamo tutto. Sì, dai, togliamoli questi così, li vedono meglio. Le altezze dei microfoni vanno bene? Sì? Quando volete? Con la musica. La password. Ah, è andato in stand-by il computer, scusate. Dai un'altra barzelletta. No, no. Li vuoi far scappare prima ancora di incominciare? Eh. Ah, è andato in stand-by il computer. Io vidi già, cavalier muover campo, e cominciare stormo, e far lor mostra, e talvolta partir per loro scampo. Corridor vidi per la terra vostra, o aretini, e vidi gir gualdane, fedir torneamenti, e correr giostra. Quando con trombe, e quando con campane, con tamburi, e con cenni di castella, e con cose nostrali, e con istrane. Ne già, con si diversa cennamella, cavaliervi di muover, né pedoni, né nave a segno di terra o di stella. Noi andavamo, con gli dieci demoni. Ai, fiera compagnia. Ma nella chiesa coi santi, e in taverna coi ghiottoni. Pura la pegola, era la mia intesa, per veder della bolgia ogni contegno, e della gente che entro vera incesa. Come i dalfini, quando fanno segno a marinar, con l'arco della schiena, che s'argomentin di campar lor legno, talor così, ad alleggiar la pena, mostrava alcun dei peccatori il dosso, e nascondea in men che non balena. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso, stanno i ranocchi, pur col muso fuori, sì che celano i piedi, e l'altro grosso, si stavano ogni parte i peccatori. Ma come si appressava barbariccia, così si ritraean sotto i bollori. I vidi, e anche il cor me ne accapriccia, uno a spettar, così come l'incontra, c'una rana rimane e l'altra spiccia. E Graffiacan, che gli era più di contra, gli arroncigliò le impegolate chiome, e trasse il su, che mi parve una lontra. Gli sapea già di tutti quanti il nome, se li notai quando furono eletti, e poi che si chiamarono attesi come. Oh Rubicante, fa che tu li metti gli unghioni addosso. Sì che tu lo squai, gridavano tutti insieme i maledetti. E io, maestro mio, fa se tu puoi, che tu sappi chi è lo sciagurato venuto a man degli avversari suoi. Lo duca mio gli si accostò al lato, domandò l'ho onde i fossero, e quei rispose Cuivi mi misi a far baratteria di chi io rendo ragione in questo caldo. E Ciriatto, a cui di bocca uscìa d'ogni parte una sanna come a porco, li fei sentir come l'una sdrucia. Tra male gatte era venuto il sorco, ma Barbariccia il chiuse con le braccia e disse State in là, mentre io l'onforco. E al maestro mio volse la faccia. Domanda, disse Ancor, se più disì saper da lui, prima caltre il disfaccia. Lo duca dunque. Ordi, degli altri ri, conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? E quelli? I mi partì poco e da un che fu di là vicino. Così fossi io ancor con lui coperto, chi non temerei né unghia né uncino? Ah, e lì bicocco, troppo avem sofferto, disse, e prese lì il braccio col roncigno, sicché stracciando ne portò un lacerto. Draghignazzo Anco i volle d'ardipiglio, giuso le gambe, onde il decurio loro si volse intorno e intorno con malpiglio. Quando egli un poco rappacciati fuoro, a lui, che ancor mirava sua ferita, domandò il duca mio, stanza di moro, Chi fu colui da cui ma la partita, di che facesti per venire a proda? Ed ei rispose, Fu, frate Gomita, quel di Gallura, vasel d'ogni e froda, che ebbe i nemici di suo donno in mano e fesi lor che ciascun se ne l'odda danar, si tolse e la sciogli di piano, sì come i dice. E negli altri uffici anche, Barattier fu non picciol, ma sovrano. Usa con esso donno Michel Zanche di Logodoro, e, a dir di Sardigna, le lingue lor non si sentono stanche. O me, vedete l'altro che di Grigna, i, direi anche, ma i temo chello non so parecchi a grattarmi la tigna. E il gran proposto, volto a Farfarello, che stralunava gli occhi per fedire, disse Fatti incostà, malvaso uccello! Se voi volete vedere o udire, ricominciò lo spurato appresso, toschi o lombardi, io ne farò venire. Ma stiano i malebranche un poco incesso, sì che i non teman delle lor vendette. E io, seggendo in questo loco stesso, per un chio son, ne farò venire sette. Quand'io suffolerò, come nostro uso di fare, allorché fuori alcun si mette. Cagnazzo, a cotalmotto, levò il muso, crollando il capo, e disse Oh, di malizia che gli ha pensata per gittarsi giuso! Un dè, che aveva l'acciuoli a grandi vizia, rispuose Malizioso sono io troppo, quand'io procuro a miei maggior tristizia! Alichin non si tenne e di rintoppo agli altri disse a lui Se tu ti cali io non ti verrò dietro di gualoppo ma batterò sovra la pece l'ali Lasciasi il collo e sia la ripascudo a veder se tu sol più di noi vali O tu che leggi udirai nuovo ludo Ciascun dall'altra costa agli occhi volse Quel prima cacciò fare era più crudo Lo navarrese ben suo tempo colse fermò le piante a terra e in un punto saltò e dal proposto lor si sciolse Di che ciascun di colpa fu compunto ma quei più che cagion fu del difetto però si mosse e gridò Tu sei giunto Ma poco i valse che l'ali al sospetto non potero avanzar Quelli andò sotto e quei dristò volando suso il petto Non altrimenti l'anitra di botto quando il falcon s'appressa giù s'attuffa ed è ritorna su cruciato e rotto Irato calcabrina della buffa volando dietro li tenne invaguito che quei campasse per averla zuffa e come il barattier fu disparito così volse volse le artiglie al suo compagno e fu con lui sopra il fosso germito ma l'altro fu bene sparvier grifigno ad artigliar ben lui e ambedue cadder nel mezzo del bogliente stagno lo caldo sghermitor subito fue ma però di levarsi era niente si avvieno inviscate l'ali sue barbariccia con gli altri suoi dolente quattro ne fe volar dall'altra costa con tutti i raffi e assai prestamente di qua di là discesero alla posta porcergli un cin verso gli impaniati che erano già cotti dentro dalla crosta e noi lasciamo lor così impacciati grazie La democrazia ha bisogno, più di qualunque altra forma di governo, di cittadini attivi. Non sa che farsene di cittadini passivi, apatici, indifferenti, che si occupano soltanto dei propri affari e delegano ad altri il compito di occuparsi degli affari comuni. La democrazia vive e prospera solo se i suoi cittadini hanno a cuore le sorti della propria città come quelle della propria casa, che delle città è soltanto una parte. La democrazia vive e libera solo se i suoi cittadini attivano solo se i suoi cittadini attivano solo se i suoi cittadini. Grazie. 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 Grazie.